La riforma delle concessioni demaniali non sarà varata da questo Parlamento se ne occuperà il nuovo governo. Così il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha chiuso per il momento la questione Volkestein durante il colloquio avuto con i balneari versilesi. Una delegazione del Comitato per il Salvataggio delle Imprese lo ha atteso a lungo fuori dalla cittadella del Carnevale mentre il leader Dem faceva visite ai carristi. Poi il confronto non privo di accuse sulle responsabilità dei precedenti governi e sulla paternità dell'attuale disegno di legge delega allo studio del Senato che di fatto dà il via alle aste degli stabilimenti. Il disegno di legge stesso non ha i tempi tecnici per poter essere approvato. Quindi si andrà sicuramente a dopo le elezioni. Lui ha detto che ci sarà il tempo forse anche per riflettere. Noi speriamo perché evidentemente si devono rendere conto che quel disegno di legge e le aste che sono previste nella Bolkestein non sono applicabili tecnicamente, giuridicamente e anche politicamente perché insomma c'è un settore qui che deve essere salvaguardato. Balneari a parte, l'arrivo di Renzi a Viereggio sembra aver dato una scossa al centro-sinistra locale. Se ad attendere il segretario mancavano alcuni volti del PD Viereggio oppure il presidente della provincia Luca Menesini giustificato con l'approvazione del bilancio. In prima fila c'era però il sindaco Giorgio De Ghingaro, espulso dal PD dopo la sua candidatura e vittorie a Viereggio. Il tempo per un rapido faccia a faccia c'è stato tra il sindaco e il segretario. Un passo in avanti per riprendere la tessera? De Ghingaro tace, resta soltanto l'ironia affidata alla sua pagina Facebook tipica di chissà ma per adesso non vuole dire. Grazie a tutti.